Era diventato l'incubo di tanti ragazzini e aretini, aggrediti e rapinati all'uscita da scuola. Minacce, emetto di violenti, dammi soldi o ti spacco la faccia, il tutto anche per pochi spiccioli. Anche mio figlio gli hanno fatto paura, gli hanno detto di consegnargli il cellulare, il portafoglio, se no gli spaccava la faccia e lui gliel'ha dato. Adesso è finito in manette, si tratta di un ventenne di nazionalità kossovara, regolare pluripregiudicato, ritenuto responsabile di una lunga serie di rapine, tutta i danni di giovani studenti delle scuole medie e superiori. Questo mio amico era qua a studiare, verso le 4 e mezzo 5, erano ai tavolini quelli là e era da sé solo. È arrivato un ragazzo, l'ha descritto come di origini comunque verso i paesi dell'Est e si è messo a sedere davanti a lui, gli ha bloccato le braccia, gli ha fatto tutti i soldi che hai, se no ti riempio di botte. Lui comunque è mingherlino, gli ha dato 30 euro, ce l'aveva in tasca, in più l'ha preso il telefono, gli ha tirato in terra e è andato via. 14 almeno delle rapine messe a segno e denunciate in appena due settimane, nelle sue mire denaro, ma anche effetti personali e cellulari. Ma c'era anche paura nei giorni scorsi? Abbastanza, abbastanza. Tutti gli episodi si sarebbero consumati tra il parco Pertini, via 25 Aprile e il sottopasso di via Trasimeno. Aggressioni talvolta anche particolarmente cruente. In un caso, infatti, la ventena avrebbe rotto con un pugno il settona sala ad una giovane vittima per prendergli la cellulare. Individuava i ragazzini dopo averli pedinati, li colpiva principalmente quando erano isolati, ma non si faceva scrupoli anche ad entrare in azione quando le vittime erano in gruppo. Preoccupati perché potrebbe succedere anche altri, quindi so che a un ragazzino gli hanno spaccato la faccia, so che a un altro gli hanno storto un braccio, cioè voglio dire quindi tutti i bambini piccoli, non è che sono persone grandi. Il ventenne è stato individuato e fermato dalla squadra mobile della questura di Arezzo guidata da Francesco Morselli dopo aver ascoltato alcune testimonianze di ragazzini che si erano recati in questura assieme ai genitori. Adesso i poliziotti stanno cercando di capire se ci siano stati altri casi analoghi non ancora denunciati per paura. Alcuni ragazzini si sarebbero già fatti avanti.